350 ricoveri e 20.000 prestazioni ambulatoriali all'anno, oltre a 122 pazienti di SLA sclerosi laterale amiotrofica seguiti fino ad ora. Sono i numeri dell'unità operativa riabilitazione specialistica 2 trasferita un mese fa dal presidio Felice Villa di Mariano Comense all'ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù. Il reparto, nel quale lavorano tre medici e una ventina di infermieri, a pochi giorni dal trasloco ha ripreso subito l'attività. L'area d'agenza conta 16 posti letto, poi ci sono gli ambulatori e la palestra. Stamattina l'inaugurazione ufficiale. Nel nostro ambulatorio girano circa 9.000 pazienti, diciamo che sono pazienti provenienti da tutta la provincia di Como, dalle province vicine, dal lago, dall'Alto Lago e anche dalla Svizzera. Siamo un punto di riferimento per i pazienti con sclerosi laterale amiotrofica, abbiamo visto fino adesso 122 malati. Nell'unità operativa vengono ricoverati i pazienti per riabilitazione cardiorespiratoria provenienti da casa o da reparti ospedalieri quali rianimazioni o cardiochirurgie. Gli spazi più ampi, la presenza nel presidio di specialità quali la rianimazione, la radiologia, la cardiologia e la medicina rendono la nuova collocazione più adatta per il ricovero di pazienti con patologie complesse, con problematiche respiratorie o quelli affetti da sclerosi laterale amiotrofica per cui la struttura è un centro di riferimento. Tra i pazienti anche il calciatore Stefano Borgonovo, ricordato oggi più volte insieme con tutti gli altri per alcuni dei quali erano presenti familiari. Dell'indimenticato campione ha parlato anche un ospite molto nota che da anni conosce e segue da vicino il lavoro del dottor Paddeu, soprattutto l'attività svolta con i malati di SLA. Lui ha affrontato sempre questa sua cosa tremenda con tantissima dignità, anzi cercando di portarla all'aiuto, di usarla per aiutare il prossimo e questa è la cosa incredibile, una forza proprio davvero campione. Lo spostamento del reparto di rianimazione cardiorespiratoria è uno dei tasselli principali della riorganizzazione dell'ospedale di Cantù, sempre più punto di riferimento per il territorio, riorganizzazione che già guarda oltre. Mi piacerebbe poter trasportare qui la dialisi che abbiamo a Longone a Segrino perché ci siamo messi d'accordo, ne abbiamo parlato con i rappresentanti dei dializzati e anche loro sarebbero felici di poter fare questo spostamento. È un obiettivo che abbiamo molto ben presente e cercheremo di portarlo avanti.